Dio non guarda le apparenze e non sceglie secondo i criteri del mondo. Gesù mette l'enfasi sull'importanza di amare tutti, anche quelli che consideriamo inferiori a noi. Nessun uomo è piccolo agli occhi di Dio. Ognuno è prezioso e degno d'amore. Per ciascuno di noi Gesù ha donato la sua vita sulla croce. Gesù non privilegia la gente di Nazareth per il fatto di essere suoi coetanei. Non si lascia manipolare dalle loro aspettative e non fa niente per farsi vedere e ottenere la loro ammirazione. Non ha paura di dire la verità. Questo episodio ci insegna che Dio non può essere manipolato e la sua volontà si compie sempre, anche quando i nostri piani sono diversi dai suoi. Ti consideri superiore ad altri per essere credente? Come ti comporti con chi non ha la tua stessa fede o con chi la pensa diversamente da te? Fai le cose, anche azioni di bene, per essere visto e lodato dagli altri? Grazie per la visione!